Grande emozione per Stefano Rossi per essere arrivato sul podio nell'ultima speciale dell'Africa Eco Race, quella dell'affascinante Lago Rosa. Stefano Rossi e Alberto Marcon su Nissan Patrol sono stati i primi italiani in classifica, 31esimi assoluti e 14esimi di categoria T1. È una soddisfazione incredibile essere qui e anche se il Lago non è rosa, siamo ad acá. Assolutamente, gara tosta, tostissima, cominciata tutta in salita. Quest'anno era già di suo, dalle premesse la dicevano più complicata, in effetti lo era. La navigazione tracciato era più duro, però è più grande la soddisfazione arrivare in fondo e conquistarla, perché le cose facili non ci piacciono, se no non saremmo più. Bertin, che dici? Una grandissima soddisfazione essere arrivati fino alla fine, per Stefano è il secondo anno, ma per me è il primo e quindi penso che sia una cosa eccezionale. Abbiamo fatto un gran lavoro anche negli imprevisti, nelle insidie e nelle insidie meccaniche. Bene insomma, era partita in salita e è arrivata in pianura, però molto bene. A parte questa mattina, al momento del via, schieramento in linea. Ma adesso sì, poco tempo fa, non volevo più partire, ma abbiamo fatto un'altra acrobazia strana. Gli avete parlato, gli avete detto, ti prego, almeno questa. Mi ha fatto capire Alberto che... Che te lo porti a pazzo, no. Abbiamo messo le manine dietro il cruscotto. Da qualche parte e ha funzionato. Grandi, bravi, bravi, bravi. Grazie. Grandi. Ciao. Ciao ragazzi. Un saluto da casa. Ciao. Ciao.